messaggio della madonna primo gennaio 2021 la pace miei figli amati la pace figli miei io sono la madre di dio la madre della chiesa e di tutta l'umanità vengo dal cielo per chiamarvi alla conversione alla santità conversione non vuol dire essere di di un giorno e l'altro giorno per negarlo ritornando a una vita sporca di peccato e infideltà conversione non vuol dire pregare un giorno o due e vivere molti altri giorni come se non fossero cristiani battizzati proprio come animali senza ragione conversione non vuol dire che siete fedeli a mio figlio e che siete i suoi discepoli e tacciono di fronte agli errori e agli attacchi contro la sua divina maestà contro i suoi veri insegnamenti e comandamenti conversione non vuol dire che siete figli della chiesa ma tacciono non la difendono quando la vedono oltraggiata ridicolizzata tacciono permettendo ai profanatori eretici spietati di inserirsi in essa insegnando errori bugie ed eresia alle tante anime innocenti e vittime dei lupi travestiti di agnello nessuno li difende nessuno li aiuta nessun altro si preoccupa delle pecore del mio divino figlio ognuno pensa se stesso ai propri interessi e altri cercano solo di sapere come sopravvivere in questi tempi difficili in modo egoistico e con il loro cuore indurito e chiuso alla grazia e all'amore di dio tutto questo vi condanna all'inferno se non vi correggerete dei vostri errori e delle vostre azioni non entrerete nella gloria del paradiso questo è il mio messaggio questa è la mia chiamata cambiate la vostra vita e convertitevi vi benedico tutti nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amè grazie a tutti